Assessore, torna un appuntamento fondamentale per il turismo toscano, tanti i nomi importanti del turismo, soprattutto online. I nomi importanti è occasione rilevantissima. La BTO è sempre più il punto di riferimento del turismo online, della riflessione che questi operatori e le istituzioni, e gli operatori economici Tukur fanno insieme, esplorando e indagando insieme le opportunità che questo nuovo modo di comunicare offre, le piattaforme digitali e i grandi operatori internazionali a Firenze, per parlare di turismo digitale, per prenotazioni, per valorizzazione dei territori, e per conoscere meglio insieme le grandi opportunità che il web può offrire a tutti noi. Senta, teme ricadute negative per i recenti allarmi terrorismo che si continuano a susseguire giorno dopo giorno anche in Italia? Io credo che intanto che l'Italia sia percepita come un posto sicuro. E' certo che il turismo vive di pace, non certo di terrore o di attentati o di guerre o di conflitti. L'Europa è la meta tradizionale di oltre la metà del turismo mondiale. Pensare che ci siano variazioni sostanziali sui flussi turistici credo che non stia fra le cose che possono accadere. Ci sono momenti in cui ci saranno delle riflessioni. Io credo che comunque tutti dovremmo dare una risposta di serenità nel percepire quello che sta accadendo in questo momento. E dall'altra parte agire con efficacia perché non vi sia alcuna ricaduta ulteriore oltre ai tragici eventi che si sono verificati.